ciao a tutti allora diciamo a seconda parte del video dei regalini vi ho fatto vedere già i regalini diciamo più natalizi poi ci sono questi regalini qui che sono stati fatti tra alcuni sono natalizi barra laurea laurea barra natalizi comunque sono dei regali che ho apprezzato tantissimo e incomincio a farveli vedere il primo regalo che voi sapete della laurea è quella con cui sto riprendendo cioè quella meravigliosa io ti amo quella meravigliosa videocamera che mi sta guardando in questo momento comunque non ci fate caso io e lei abbiamo una love story in atto allora vi faccio vedere alcuni pensierini che ho ricevuto e oddio da che cosa cominciare non lo so allora alla laurea proprio le amiche che sono venute le ragazze dell'università mi hanno fatto dei pensierini io li ringrazio tantissimo penso di aver preso tutto se non ho preso tutto comunque lo dirò perché sono tantissime cose allora questo qui è un quadretto che mi è stato regalato da la mia amica Luanuccia ciao Luanù alcune di loro sono vittime anche dei miei video mi guardano anche e io mi sto crepando di vergogna comunque è un quadretto dove io devo ancora mettere una fotina me la devo far stampare della laurea poi ancora mi sono stati regalati oddio questo è meraviglioso guardate cioè ditemi se non è stupendo è bellissimo e io non so se lei guarda i miei video comunque Mary ti ringrazio tantissimo è bello 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 è praticamente uno scarda uno scarda cianfe voi prendete le zampogne e le infilate qui dentro quando fa freddo guardate è meraviglioso è stupendo poi io vi farò vedere anche qualche auto regalo che mi sono fatta ho dimenticato di prendere anche il jeans vabbè non fa niente non ci fate caso comunque ho preso ho preso mi hanno regalato Francesca la mia amica da praticamente 20 e passa anni mi ha preso questo bellissimo orologino è carinissimo è molto molto elegante sottile diciamo che io me lo tengo più per le occasioni comunque è bellissimo rosso ovviamente per la laurea e poi mi ha preso questo ciondolino che è meraviglioso con i gufetti perché pure io sto incominciando ad avere la fissa dei gufetti e ve lo farò vedere comunque questo ciondolino qui è un ciondolino portafortuna un piccolo simpatico gufetto un attimo che vedo se me lo mette a fuoco me lo mette a fuoco eccolo qui vedete quanto è carino ora un altro regalo che mi è stato fatto da un'altra cara amica è questo e non so se lei guarda questi comunque ciao Veronica penso di sì non lo so non lo so non mi guardate per favore che mi vergogno comunque è un portafoglio di desiguale che già sto usando infatti dentro c'è di tutto di più cioè vabbè tranne i sordi ovviamente comunque c'è di tutto qui dentro tranne i sordi e poi cos'altro una signora insomma che mi ha voluto fare un omaggio per la laurea mi ha preso quest'altro mi è caduto tutto quest'altro portafogli che è molto carino in vera pelle è veramente bello anche questo è grandissimo infatti adesso a portafogli sto a posto anche perché il mio si era leggermente sfranticchiato si era scatastato si era rotto e poi mi hanno regalato insieme al portafogli questo bellissimo foulard che se non erro di Gaia e Matteolo non ne ho la più pallida idea comunque è carinissimo è gigante vedete oh sono qui vabbè basta comunque è questo che mi piace un sacco veramente poi altri regalini sempre della laurea ah mi sono stati fatti non ne ho presi un profumino da parte di Rossella che non so se mi segui però ti mando un bacione poi Maria mi ha fatto dei profumini che stanno là e mi prego non fatemi alzo e ti ringrazio tantissimo Mary non so se tu guarderai questo video ciao e l'altra mia amica Ilaria mi ha preso una cosa di cui si è impossessato un certo soggetto che ho nella mia stanza che vedrò di farvelo vedere un attimino lo vedete questo pupazzo qui sopra questo come si fa qua eccolo lo vedete non so se voi riuscite a vederlo sopra lui ha un cappello e quello è il mio cappello della laurea però lui non me lo vuole ridare comunque grazie Ilaria ciao e cos'altro questi sono invece stati fatti da alcuni parenti mi hanno regalato questa meravigliosa con la Nina di Swarovski è un portafortuna in sostanza quindi sono dei stavo guardando fuori che sta avvenendo il diluvio universale secondo me tra poco poco prima che Rosa registrasse c'era il sole mi sembra ovvio guardate quanto è carina proprio bella 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 e sono praticamente dei quadrifogli e poi ha dei brillantini verdi comunque ci hanno azzeccato perché il verde è il mio colore preferito quindi la trovo veramente carinissima ah questa pure la sto amando la sto mettendo sempre è una collana di stroili che mi ha regalato pure un altro zio guardate quanto è carina cioè bella proprio questa è proprio bella ed è anche molto lunga adesso non ve la caccio fuori da qua comunque è proprio carina 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 va bene con lo smalto lasciamo perdere e poi invece quest'altra l'ho messa qui perché aveva il suo scatolino rosso però l'ho messa nell'altro perché lo scatolino io l'ho buttato perché avevo 50.000 scatolini ed è quest'altro porta fortuna che è di una marca che si chiama Dodo mi sembra e ha una specie di paperella disegnata sulla confezione sono diciamo dei cioè un marchio che fa tutti questi ciondolini porta fortuna per le occasioni e infatti la confezione era meravigliosa era tutta rossa ah ho dimenticato la cosa migliore mi è stata regalata o di in realtà è stata regalata dalla famiglia del mio ragazzo alla mia famiglia una macchinetta di quelle tipo dolce gusto quelle che praticamente me ne sono impossessata io ecco e sono grandissime quindi non vedo l'ora di comprare cialde cialdarelle per farmi tipo cappuccini tene auto regali mi auguro di non aver dimenticato niente però abbiate pietà di me auto regali sono andata al mercatino e a parte il jeans avevo preso un jeans per me però è lì nei fondali dell'universo e non ci fate caso ho preso questa peluciosissima diciamo è una copertina ecco che io utilizzerò sul divano ma è meravigliosa veramente l'ho pagata solo 5 euro ma è di una morbidezza esagerata ho preso poi vi faccio vedere vedete questa copertina tutta gufettosa è gufettosa vedete tutti i gufetti gufettini gufettini ok l'ho presa per il letto questa e me la sono auto regalata e poi ancora altro regalo l'ultimo ma uno dei migliori me la sono fatta diciamo è a rosa per rosa ed è la palettina della slick che la volevo da tantissimo tempo questa infatti l'ho già usata in queste feste ha una scrivenza abbastanza alta io non ho utilizzato ancora tutti i colori però ha veramente ciao 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 videocamera ciao saluto e ha una scrivenza veramente bellissima bellissima una scrivenza altissima a parte alcuni colori ma voi lo sapete le slick purtroppo hanno questo piccolo difetto che ci sono insomma qualche colore che colora un pochino di meno però scrive un pochino meno però comunque io mi sto trovando proprio bene infatti ho fatto un trucco proprio in questi giorni solo con questa e mi sono trovata benissimo e niente ragazze questi erano tutti i miei regali autoregalini regalini e così in generale approfitto anche per questo video anche questo video di augurarvi buon anno e mi auguro di vederci presto ciao